buongiorno ragazzi eccoci in diretta venerdì pilatos flow su canale evolution come state tutto bene allora come diciamo con alcuni di noi alcune delle persone che seguo personalmente qui quando diciamo nella normalità tgif thanks god it's friday venerdì non è un venerdì climaticamente eccellente avevano anticipato le meteo previsione meteo sarebbe stato un come dire una giornata come si suol dire da tregenda che hai con vento pioggia freddo quindi copritevi mi raccomando ora scopriamoci un po per far pilates aspetto di vedervi in connessione che è come sempre se siete in diretta la fate adesso diversamente la potete fare in differita in qualsiasi momento tanto sono nostre lezioni sono tutte permalink e quindi sono fruibili quando volete che spero che abbia trascorso una buona settimana spero il vostro weekend sia beautiful ciao ok e quindi cominciamo il venerdì insieme quindi attiviamoci ok allora direi un paio di minuti e poi iniziamo allora nessuna specifica particolare ok per quello riguarda stamani niente di particolarmente tecnico o nessuna particolarità da specificare andiamo avanti curiamo sempre il pilates nella modalità del flow quindi del flusso transizione tra un esercizio e l'altro cerchiamo sempre di alzare la sticella per quello che riguarda l'intensità allenante degli esercizi e di migliorare via via il concetto del flow quindi la fusione tra un esercizio e l'altro attraverso l'uso di transizioni ok come sempre alcune possono essere di un livello altre di un livello diverso quindi magari un po più difficili o un po meno quindi sta ciascuno di noi adattarle a quelle che sono le proprie necessità ok quindi ci ho detto andiamo a controllare ciao andiamo a controllare il volume della musica e iniziamo con il warm up quindi con l'attivazione articolare e muscolare dammi un secondo torniamo i livelli allora ci siamo bene un minuto e cominciamo cerchiamo un po più di velocità l'unica cosa che ti chiedo velocità in che senso transizioni un po più veloci e cercare di rendere un po più dinamico quello che andiamo a fare attraverso l'uso della tecnica del pilates ok è un concetto questo quello della velocità di esecuzione chiaramente deve essere contestualizzato nel pilates una velocità estrema non ricorrerà mai il pilates tende a fare come sai bene tirare il ram in barca per quello che concerne adattarsi e la qualità del movimento è vero anche che magari a volte se li dobbiamo trovare un difetto tutte le cose che non sono perfette nella loro caratterizzazione il pilates magari soffre di questa tendenza a essere autoreferenziale a volte un po troppo lento quindi cerchiamo di di velocizzarlo un pochino sempre ripeto restando nel quello che è l'aspetto della della tecnica della disciplina ok ragazzi direi che possiamo cominciare cominciamo col warm up che andremo a strutturare dalla parte alta fino alla parte bassa ok a segmenti quindi cominciamo dal lato bene io mi muoverò via via per poi andare sul palco sul tappetino solito per quello che riguarda poi le varie skill le varie esecuzioni da fare con l'ausilio del tappetino quindi cominciamo con le spalle che vanno su e scendono inspiro sollevo le spalle e abbasso inspiro espiro prendo l'aria fuori aria ancora un po di volte inspiro espiro ancora su due ancora uno la testa stessa direzione un altro direzione opposta un altro le mani dietro il capo una bella respirazione dilatando la gabbia toracica quindi respirazione toracico diaframmatica espando la gabbia lati espiro senti le scapole slittare i lati ancora 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 due ancora uno basso bene le mani sui fianchi rilassa le ginocchia l'apertura dei piedi la stanza dei piedi è eccedente l'ampiezza del bacino quindi più o meno sull'ampiezza delle spalle cosa facciamo circonduzione del bacino quello che tecnicamente potrebbe richiamare l'ovula hop questo ok bene quindi bacino mutuo a 360 gradi rotazione tra antiversione e retroversione ok abbiamo scelto una direzione la manteniamo l'ampiezza dei movimenti trova la tua ok cambio direzione un altro perfetto perfetto allora lo range il movimento di stacco dove piegherò le gambe manderò il bacino all'indietro la schiena dritta dritta le braccia tese il mento chiuso sul collo guardami un attimo è molto semplice vai inspiro espiro inspiro espiro inspiro espiro ancora due attivo glutei ancora uno ok compatta bene i glutei quando inspiri e sollevi le braccia rilassa i glutei quando espiri abbassi le braccia obiettivo neutralizzare mantenere in neutra in assetto neutro la zona lombare spiro ancora due bending quindi nel pilates lo chiamiamo roll down standing roll up standing arrotolo srotolo la colonna quattro volte pensando ancora due ancora uno perfetto allora succiamo tipiotarsica caviglie stringo la base la stance ok piega la gamba destra hai allineato bene caviglia e ginocchio anche assì fai sì col capo bene colonna a basso la gambo ovvero il tallone tocca a terra la distendo piega l'altra caviglia e ginocchio anche in linea allora nel farlo cerchiamo di non sbilanciare in avanti il peso neanche lateralmente quindi cerchiamo di mantenere tutto in asse ok di fare in modo che tutto il peso cada sempre nel baricentro ok nel poligono ristretto che abbiamo creato tra un piede e l'altro e quindi vado vado fletto fletto mantieni questa linea ok una retta perpendicolare al pavimento ok senza oscillare senza spostare in avanti il peso ok ancora gli ultimi 8 adesso 8 7 6 5 4 3 2 1 giù giù allora sposta il peso sull'esterno dei piedi quindi stupiniamo i piedi e riappasso ok ancora sposto a basso ancora 2 ancora 1 bene ok allora pochi fronzoli e cominciamo roll down cammino plank ritorno in piedi 3 volte ok io cambierò frequentemente angolazione andiamo col primo scendo 3 2 1 out torno in piedi secondo 4 3 2 1 e ritorno terzo 3 2 1 ritorno allora il quarto lo spendiamo per rimanere a terra ok scendo resto 4 3 2 1 ginocchio destro a terra sinistro a terra vengo su sediamoci spine twist ok separate le gambe o uniti i piedi l'importante è che la colonna mantenga la perpendicolarità con la superficie e il bacino resti a sedere sugli ischi bene mani più bassa rispetto alle spalle butto fuori l'aria prendo l'aria ruoto il torace a sinistra fuori aria ritorno prendo l'aria a destra fuori aria e ritorno premi bene col bacino e soprattutto con la direzione la parte opposta alla direzione del tronco ok per evitare che il bacino si sollevi vado a sinistra spiego bene spiego bene spiego bene con il gluteo destro a terra con la tuberosità la punta dell'ischio ritorno e il contrario uno di qua uno di là a basso bene ritorno sulle ginocchia gamba resta sai già cosa faremo lo rimetto quasi sempre nelle nostre routine all'uno tre due uno torno un altro sempre destro lato tre due uno cambio tre due uno ok vai tre due uno bene sul bordo anteriore del tappetino perfetto allora cosa andiamo a fare adesso roll down interrotto ritorno spine stretch forward e riparto allora cosa intendiamo per roll down interrotto non arriviamo a terra direttamente ci fermeremo al punto un po' quello che troveremo ciascuno di noi essere più critico ok dove ho difficoltà a tenere se vuoi aggiungere quello zing in più di difficoltà tieni le braccia un po' più sollevate ok e sentirai l'addome lavorare più consistentemente quattro volte roll down interrotto lo mantengo torno su spine stretch forward quindi piegamento l'arrotolamento in avanti della colonna ok dai andiamo pronti arrotondo la schiena giù dal fascino mi fermo mi fermo ritorno arrotolo la colonna ritorno su e il faccio arrotondo va qui ovviamente e ritorno risalgo ancora due ritorno un altro risalgo allora sulle ginocchia di nuovo questa è una transizione quella senza usare le mani molto soggettiva se riesci a eseguirla bene considera sempre anche l'ambiente se hai difficoltà no ok piano piano allora cosa vorrei che tu facessi adesso andiamo a mettere insieme un allungamento e un accorciamento ovvero guarda questo con questo ok lo faremo due volte allungo accorcio quindi vado in contrazione allungo accorcio cambio lato ok vai allungo allungo accorcio allungo accorcio chiudo risalgo semplice vero dall'altra parte e vado allungo allungo accorcio accorcio allungo accorcio accorcio risalgo bene bene siedo di nuovo sul bordo del tappetino allora roll down completo shoulder bridge roll up completo due volte sole quindi è di una semplicità disarmante questo ok due volte lento te l'ho fatto vedere ovviamente veloce e compressa scendo braccio a terra piego le gambe su col bacino apro bene neanche rilasso la muscolatura dietro giù la vertebra alla volta stendo le gambe a terra faccio un cerchio con le braccia roll out niente di più semplice un altro ancora risalgo bene roll back quattro volte aumento sul collo e vado e uno ok metto sul collo due tendi bene le gambe usa bene gli addominali metto sul collo tre un altro quattro bene allora giro di nuovo insistiamo su questo vado torno vado torno di nuovo sulle ginocchia ok allora side kick kneeling front e chiudo quindi non allungo più ma vado tutto a lavorare sulla forza adesso scendo quindi questo tac e tac e tac poi ancora tac tac e ritorno e cammo e tac e tac e tac e bene allora adesso scendiamo a terra roll down e restiamo a terra iniziamo la parte più lunga sul tappetino in posizione sottina ok allora se vuoi fruire della discesa in air pull quindi con le mani dietro il capo colloca la colonna dritta fino al punto in cui riesci a mantenere a qualche istante mantenuta bene poi al rotondo scendo ok quindi caratteristiche o un roll down regolare oppure roll down neck pull il movimento è gestito gestito ok fluido punto A la partenza punto B l'arrivo ci sono tantissime sfumature gestiamole troviamole pronti inspiro e vado giù lentamente controlla mi raccomando controlla il movimento bene eccoci a terra braccio a terra ritorno un attimo su in bridge resto 3 2 1 giù le vertebre un altro salgo su col bacino 3 2 1 torno giù lentamente ok allargo un po' le braccia unisco le gambe sollevo le braccia sollevo la testa metto le mani dietro la testa sollevo le gambe piedi uniti abbatto i talloni ritmicamente tieni bene con l'addome attenzione a non inarcare troppo la schiena e quindi attenzione a non appassare troppo le gambe ok 8 7 6 5 4 3 2 1 fermo piego le gambe giù un piede giù l'altro giù le braccia giù il capo allargo le braccia su col bacino 3 2 1 vertebra vertebra giù un altro uguale su dietro chiudo salgo ibarico talloni piedi a martello stendo le gambe aggiustano l'inclinazione e batto 8 7 6 5 4 3 2 1 stop giù giù bene wall wall circle gamba destra 4 gira all'interno 4 all'esterno e cambiamo gamba braccia larghe spalle aperte gamba destra su gamba sinistra giù 4 verso l'interno e 1 e 2 e 3 e 4 cambio 4 3 2 1 cambiamo gamba sinistra sinistra va su la destra va giù 4 all'interno 4 all'esterno vai e 1 stabile il resto del corpo lo sai spalle ben distese ben aperte 2 3 4 direzione opposta dai 4 3 2 1 piego tutte e due le gambe destra sinistra bene mani dietro allora one leg stretch 8 battute più una cosa vuol dire muoveremo le gambe 8 volte più una in cui la lasceremo giù ovvero alternando le 8 volte la non abbattuta si resta giù allora hai la possibilità se vuoi di aggiungere la caratteristica caratteristica un movimento delle braccia di una 100 se vuoi aggiungerlo bene diversamente se hai necessità di continuare a tenere supportata con le mani la testa per evitare tensioni sul collo ok lo stesso a te la scelta 8 movimenti l'ultimo mi ferma mi fa fermare sulla gamba io conto 10 a scalare lo facciamo insieme su su pronti vai e uno non bari neutra e due e tre e quattro e cinque e sei e sette e otto più uno dieci nove otto sette sei ok cinque quattro tre due uno stop giù giù braccia all'indietro un attimo ispiro una bella ispirazione sulle braccia sul capo mani dietro sulle gambe lo rifacciamo comanda la gamba sinistra stavolta pronti vai e uno e due e tre e quattro e cinque e sei ok e sette e otto più uno dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno stop giù e giù ok allargo le braccia bene muovo le gambe sinistra destra quattro volte quindi sinistra destra se vuoi cambia l'angolazione sinistra destra perfetto ok allora shoulder breath strength forza quindi come porto sul bacino sollevo la gamba la basso porto sull'altra torno giù col bacino pronti su gamba sinistra va su stand tenere quattro tre due uno giù gamba destra va su quattro tre due uno giù rilassa rilassa tutta la muscolatura posteriore accompagna le vertebre una dopo l'altra fino a terra bene allora adesso il bacino resta su su una gamba la gamba la piego e la stendo quattro volte poi cambio e poi giù di nuovo quindi bacino gamba sinistra piegata stesa e uno piego e due e tre e quattro e giù cambia e vado e quattro e tre e due e uno e giù allargo le braccia rilassa la muscolatura dietro giù le vertebre accompagnandole una dal dopo l'altra bene ragazzi si sale siamo scesi con un roll up siamo scesi con un roll up volendo il neck pull si risale braccia tese o mani dietro la testa a te la scelta non esistono slanci non esistono slanci pronti bene bene ok allora un po' di nuovamente un po' di mobility sfruttiamo 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 seal due da quattro ripetizioni due serie quattro ripetizioni incrocio in questo modo le braccia faccio passare all'interno prendo i piedi mi lancio quattro volte preme recupero e mi lancio altre quattro volte premi i gomiti contro l'interno coscia per aumentare la stabilità e vado e uno e due e tre e quattro e giù prendo le fronte nei piedi braccia tese spingo il petto in avanti le scapole all'indietro apro tre due uno su un altro uguale prendo prendo sollevo e vado e quattro e tre e due e uno e giù prendo le punte schieradri spinta apro il petto scapole all'indietro tre due uno ok mermaid apertura solo apertura prima da una parte vista quattro quattro e due uno dall'altra parte quattro tre due uno intorno intorno ok perfetto allora andiamo avanti adesso ci giriamo ci mettiamo pancia a terra quindi diamo un po' lavoro ai glutei attraverso questa esecuzione il battito dei talloni quello che hai fatto prima schiena a terra adesso pancia a terra poi dopo le gambe a swimming recupero e lo rifaccio tra questo e questo le gambe non c'è recupero ok quindi organizzati in modo tale da creare una buona tensione allenante ok affinché non ci sia perdita di efficacia così come neanche tensione eccessiva quindi attenzione a quanto solleverai le gambe cambio di playlist si riparte intanto comincia a venire pancia a terra e a portare la fronte sulle mani ok allora quindi questa parte poi la andiamo a dedicare a il gluteo fondamentalmente nella sua caratterizzazione completa quindi grande gluteo e un po' anche sul medio che andremo a fare attraverso side kick prima pancia a terra ok fronte sulle mani bene ruotole anche gambe tese piedi a martello talloni uniti solleva le gambe batte i talloni ritmicamente uno piccoli movimenti due tre quattro cinque sei sette otto mi fermo raddrizzo le gambe swimming uno due tre quattro cinque sei sette otto abbassa una gamba abbassa l'altra ok allora lo rifacciamo uguale identico senza cambiare niente quindi nessuna interruzione tra un otto di un tipo e l'altro vai si va di nuovo pronti vai uno due tre quattro cinque sei sette otto raddrizzo le gambe swim otto sette sei cinque quattro tre due uno stop adesso scarichiamo col bacino all'indietro bene vai ok ok allora ragazzi sei clic adesso e quindi ci andremo a mettere sul fianco sinistro a terra prima e sul fianco destro poi bene allora io mi metto verso di te allora cosa faremo adesso un lavoro un po' più lungo quindi faremo side kick quindi prevalenza glutei e gambe dopo andremo a lavorare su side band prevalenza core core e parte alta ok andiamo a strutturare intanto il lavoro mi farai otto ripetizioni più un conto da otto di molleggio su due movimenti ben distinti il primo sarà questo gamba avanti e ritorno ok otto volte vado e torno poi resto avanti e molleggio al conto di otto dopo faremo lo stesso concetto di lavoro ma sulla gamba che va su e giù ok allora posizione base di side kick la gamba di terra è piegata la mano costare dietro la nuca davanti dove preferisci pronti cominciamo col primo otto più otto di molleggio ci siamo e vado e uno ritorno piede a martello e due gamba bella tesa ritorno tre ok quattro cinque sei sette otto in avanti piccoli molleggi uno due piccoli tre piede a martello quattro cinque sei sette otto stop appoggio ok allora la stessa gamba ma il movimento non è avanti e centro ma è alzo e abbasso ok pronti vai e uno e due ben tesa la gamba e tre e quattro e cinque e sei e sette e otto short range sumo leggi otto sette sei cinque quattro tre due uno stop ok buono sente si dovrebbe sentire ragazzi cambiamo lato e facciamo la stessa cosa ok avanti e centro più il molleggio poi su e giù più il molleggio dai o qui o qui scegli la tua versione pronti si va e uno ritorno e due ritorno e tre e quattro e cinque e sei e sette ok e otto usiamo il molleggio vai uno due tre quattro cinque sei sette otto ok bene su e giù adesso pronti sedi bene la gamba e vai uno due tre quattro cinque sei dai ancora due due dai ancora uno uno resta su short range otto sette sei cinque quattro tre due uno stop ok si sente? dai si che si sente bene allora avviamoci alla sezione successiva che poi è quella che ci porta alla chiusura adesso dopo aver lavorato sulla forza simmetrica e adesso asimmetrica cerchiamo di ridistribuire cerchiamo di ridistribuire simmetricamente in maniera organica adesso tutto il concetto di mobility attraverso una semplice variante dello shoulder bridge che consisterà nello stare a terra ovviamente con le braccia all'indietro o allargate salgo col bacino e ritorno giù vertebra a vertebra dove ti chiedo di capire la posizione sulle spalle le braccia saranno immobili ferme la criticità avverrà nel ritornare giù a terra vertebra a vertebra se ho tendenza alle spalle curve ok quindi a quel punto le mie braccia se sono troppo all'indietro le porterò un po' più in avanti ok considera che siamo a terra e cerchiamo la mobilità della colonna e l'ampiezza quindi la mobilità in apertura statica delle spalle ok allora draio tu schiena a terra allora andiamo di sei ripetizioni ok braccia ferme devono stare tese se troppo all'indietro crea tensione per favore portale un po' più avanti pronti si va uno tac rilasso tutto giù lentamente vertebra a vertebra le mie spalle sono immobili non si curvano restano aperte ok vai e due tac e scendo e tre e quattro ancora due tac uno tac tac ok allora come ti avevo anticipato adesso andiamo a lavorare su side bend quindi prevalenza parte alta e quindi tronco e core allora stamani mettiamo la variante del twist ovvero questa guarda me guarda un attimo le gambe il braccio il movimento che andrai a fare guarda ok ok allora guardiamo velocemente le caratteristiche la gamba che sta dietro ruota insieme alla colonna osserva bene osserva bene ok questa ruota vedi ruota allora salvo twist apro scendo quattro volte allora ragazzi una cosa importante se hai problemi a una spalla non mi fai twist e quindi come lo sostituisco guarda semplicemente così oppure anche così ok abbiamo diverse possibilità cerchiamo di sfruttare ciascuno di noi quella che gli è più congeniale o necessaria ok se fai twist quando ruoti contrai bene l'addome di succhia l'ombelico più lontano da terra bene pronti? quattro ripetizioni via uno scendo due scendo tre scendo quattro scendo siedo e stiro ok lato opposto ok valgono le stesse premesse dobbiamo considerare ciascuno di noi le nostre le parti articolari metà corporee e per capire come rispondono all'input fornito quindi anche da questa parte se puoi andare libero vai twist diversamente riduci ok vai quattro ripetizioni pronti? si va e uno scendo e due scendo e tre scendo e l'ultimo scendo ok e stiro bene allora andiamo sulla parte finale rimettiamoci un attimo pancia a terra voglio che andiamo a stendere bene le anche e aprire bene il petto attraverso la tecnica swan dive ok ovvero questa allora ricordate le caratteristiche se hai difficoltà sulle spalle sulla schiena sali poco e magari abbraccio leggermente piegate ok in questo modo diversamente se abbiamo molta escursione sfruttiamola cerchiamo di mantenere il bacino più basso possibile più verso terra possibile non mi buttare le spalle in avanti se hai questa tendenza soprattutto se usi le braccia distese teni le braccia un po' piegate ok sei volte buono passiamo e vado inspiro su contrabbi glutei espiro scendo giù ancora vado scendo ancora e scendo altrettanti vai tre o tre glutei scendo due uno bene all'indietro un attimo braccio braccio all'indietro allora sediamoci davanti andiamo sulla parte finale allora abbiamo steso le anche che adesso adesso andiamo a richiudere e a riproporre ancora una volta quel challenge che fa molto pilates avanzato del ken ken con le gambe stese ok bene ricorrerà frequentemente così poi andremo nelle prossime volte ci vedremo anche a iniziare a comporre delle figure delle skill esercizi più avanzati che fanno parte del repertorio avanzato ok così almeno arriveremo come dire preparati e avremo un numero sempre maggiore di possibilità nonché di esercizi allora l'hai già fatto diverse altre volte li facciamo anche oggi ci sei? bene allora inclino sollevo gambe a sinistra fuori aria stendo le gambe 3 2 1 piego torno al centro spalle basse cambio gambe a destra fuori aria stendo 3 2 1 torno al centro appoggio mani dietro le gambe prendo l'aria allungo apri il petto fuori aria slaccio le dita dietro di nuovo ripeto da capo tac tac stendo 3 2 1 piego torno cambio 3 2 1 torno mermaids stretch esattamente come prima questo ritorno ritorno cambio torno perfetto allora ragazzi siamo alle battute finali l'ultimo zing di forza in cui ti chiedo di andare a mettere insieme ti chiedo di andare a mettere insieme leg pull push up 3 volte te lo faccio vedere velocemente e lo facciamo insieme ok bisogna visione di là leg pull 1 2 push up recupero chiaramente chiaramente chi ha bisogno di un push up tenue bassi impatto light ginocchia a terra ovvero ok leg pull destra sinistra push up recupero tutto per 3 volte vai pronti si va e 1 e giù e 2 e giù push up prendo varia fuori aria recupero seconda uguale non cambia niente push up push up e 1 e 2 push up push up vieni l'ultimo dai pronti si va e 1 e 2 e 3 e dietro attraverso un plank vieni pieni ok cammina all'indietro ta 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 sal ok allora facciamo un po' di defaticamento ok un po' sui polsi quindi muovi un po' ok poi ferma slaccia gira un po' apri le dita a ventaglio poi in questo modo bene ferma spalle su e giù come hai fatto all'inizio 2 ancora 1 ancora bending roll down resta giù un attimo arrotola la colonna tocca a terra il punto più basso lascia andare la testa resta un attimo salgo su fammi un altro 3 2 1 salgo su ricorda non tirare appoggia soltanto ok solo appoggiare cambio appoggia ok bene muovi per le spalle 2-3 volte ok braccio soffitto inspiro apro spiro 3 volte ancora 2-3 volte 1-3 volte espiro giù grazie grazie mille allora ragazzi grazie davvero grazie per la vostra attenzione grazie per la partecipazione grazie per il supporto avete il link se volete fare una donazione ve ne saremo molto grati ok così restiamo cerchiamo di stare galla grazie a te grazie a voi per la partecipazione i complimenti sono sempre come dire ben accettati e si spera guadagnati ok quindi ogni volta che ci vediamo è una sfida per cercare di allenarvi al meglio di motivarvi di darvi sempre qualcosa di interessante e coinvolgente ok che dirvi godiamoci la giornata che non è proprio il massimo però è comunque una giornata pienamente autunnale e quindi ci sta ok come le meteo hanno detto e anche come le meteo ci hanno detto questi giorni la temperatura va giù 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 fino anche a 10 gradi quindi ragazzi coprirsi alimentazione giusta qualche tisanina tattica con un po' di miele fa sempre bene e allenarsi e mi raccomando sempre allenarsi sempre che sia pilates che sia total body che sia posturale yoga shibam tutto quello che vi serve ce l'abbiamo qui ok per voi grazie state bene e ci vediamo lunedì prossimo grazie a tutti